Grazie Presidente, Governo. Noi ci riproviamo. Riproviamo a fare l'opposizione che parla dell'oggetto di cui stiamo discutendo e che voteremo tra poco. La risoluzione a cui faceva riferimento il collega immagino sia sottoscritta dalla maggior parte delle opposizioni, ma non da tutte. E vede il sottosegretario parlare del merito del provvedimento. Significa fare due valutazioni. La prima è che la tanto temuta recessione internazionale forse è scongiurata, quantomeno per il momento. E il fatto che la tanto temuta recessione sia scongiurata ci porta qualche margine di azione che voi avete utilizzato. 3 miliardi nel 2023 l'hanno in corso e 4 miliardi sul prossimo anno. Ci lascia molto perplessi come voi avete utilizzato queste risorse. Sottosegretario, sa perché? Perché con i 3 miliardi di quest'anno voi ridurrete il cuneo contributivo. Banca d'Italia in audizione ha stimato in circa 15 euro al mese, il beneficio che ne avranno i lavoratori che usufruiranno di questo taglio contributivo. Io rispetto anche i 15 euro, perché quando i salari sono bassi bisogna andarci con i guanti della festa a parlare di entità economiche, ma c'è un dato di fatto, che al 31-12 i 3 miliardi sono finiti e per rinnovarli dal primo gennaio i 3 miliardi che riguardano il semestre giugno-dicembre diventano 6. A questi 6 miliardi i sottosegretari si aggiungono i 5 che il governo Draghi aveva ammesso che il governo Meloni ha riconfermato. E siamo a 11 miliardi che dal primo di gennaio ci servono non per abbassare le tasse, ma per mantenere la situazione che avremo al 31-12. In più, a pagina 81 del DEF, voi scrivete, è opportuno menzionare che le proiezioni di finanza pubblica a legislazione vigente non comprendono le cosiddette politiche invariate, che coprono una serie di spese che giustamente voi ha definito obbligatorie, tra cui il rifinanziamento delle emissioni internazionali. Coprire queste spese, stiamo parlando di altri 6 miliardi che dal primo di gennaio, nel DEF non l'abbiamo previsto, ma sono da assicurare, 11 e 6, 17 che dobbiamo trovare al primo di gennaio. Ma non è finita qui, perché non abbiamo previsto neanche un centesimo per rinnovare i contratti di lavoro del pubblico impiego, gli insegnanti, dipendenti dei comuni, delle regioni, dei ministeri. E poiché anche dalle vostre rilevazioni l'inflazione sta pesantemente erodendo questi salari, immagino che sia un intervento, tra virgolette, necessario. Ebbene, 5 più 6, siamo 11, più 6, siamo 17, la stima del rinnovo dei contratti è di 8-9 miliardi. Quindi, dal primo di gennaio, per non fare sostanzialmente nulla che non sia conservare la situazione esistente, abbiamo bisogno di 25-26 miliardi. Una volta il DEF si chiamava DPEF, cioè Documento di Programmazione Economica e Finanziaria. Io non vorrei che avendo tolto la P, vi fosse sfuggito che la programmazione va fatta, perché in questa fotografia la programmazione non c'è. Perché stiamo sostanzialmente assumendo una posizione economica dei conti pubblici che porterà a dover riconfermare una situazione, altro che la discussione che stiamo facendo sulle detrazioni sui figli, sui nuovi provvedimenti, per conservare la situazione attuale. Torno al DEF. Per parlare delle vostre previsioni che avete introdotto in questo documento. Pagina 121. Nel DEF avete inserito proiezioni su che cosa accade nel futuro del nostro Paese. Ci sono scritte quattro condizioni necessarie per evitare problemi finanziari molto seri che dopo descrivo. La prima. Entro la fine della legislatura si tagliano una cinquantina di miliardi di spesa pubblica o di converso se aumentano le tasse di pari importo e si raggiunge un avanzo primario pari al 2% del PIL. L'ultima volta che ce l'abbiamo fatta è stata nel 2012, più di dieci anni fa. Se poi questo livello di prudenza fiscale si mantiene costante nei prossimi decenni, allora possiamo raggiungere gli obiettivi, cioè senza più tentazioni di deviare a questo percorso. Condizione numero 3. Fare riforme giuste per far crescere la produttività ad un tasso dello 0,8% annuo. Negli ultimi cinquant'anni il tasso della produttività è stato sostanzialmente pari a zero. Condizione numero 4. Posta da voi. Resistere alle tentazioni di modificare o cambiare la legge Fornero sulle pensioni. Potevate scrivere una condizione, cioè che non governiamo noi e allora tutta questa roba si fa. Se tutte queste quattro condizioni vengono esaudite, comunque il rapporto debito-PIL, scrivete voi, nei prossimi decenni sfonderà quota 180%. Se solo una di queste quattro condizioni non venisse soddisfatte, sfonderà quota 200%. Ragazzi, io capisco che parlare del futuro e delle previsioni economiche del nostro Paese può essere l'elemento di interesse di una sola parte dell'opposizione. Voglio fare notare sottosegretario che è lo stesso DEFA indicarci cosa fare per evitare questa catastrofe che voi avete descritto. Fare riforme strutturali più incisive e coraggiose, in modo che la produttività cresca almeno dell'1% l'anno. Ripeto, negli ultimi cinquant'anni sostanzialmente rimasta ferma. Aumentare flusso netto di immigrati, che vuol dire o aumentare gli immigrati regolari o diminuire gli immigrati, cioè i ragazzi italiani, o fare, sarebbe il caso di cominciare a ragionarci, entrambe le cose. Ora, ho fatto questo quadro, che è il quadro che voi restituite al Paese, per dire tre cose. La prima, se volete contrastare la crisi demografica e non banalizzarla con la sostituzione etnica, forse invece che reintrodurre, come pensa il Ministro Giorgetti, il sistema di detrazioni che lui da Ministro Draghi ha superato con il Family Act della Ministra Bonetti. Cioè, il Ministro Giorgetti e molte forze politiche qui presenti hanno dato un contributo a razionalizzare il sistema di detrazioni ed arrivare all'assegno unico che il Presidente Draghi ha fatto come decreto attuativo al Family Act dopo quattro mesi, mentre voi ci state facendo aspettare gli altri decreti attuativi del Family Act, almeno che non ci diciate che non lo volete più realizzare, perché smontiamo l'assegno e reintroduciamo un sistema di detrazioni, è una scelta politica, ma ce la dovete comunicare, perché nel DEF ci dite che volete dare corso, ma non ci mettete i soldi. E dare corso al Family Act in termini di misure, lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, parole sue, le misure previste di essere rapidamente rese esecutive per contribuire alla ripartenza del Paese. Renderlo esecutivo vuol dire fare i decreti che riguardano implementazione dei servizi educativi, sostegno economico alle famiglie per spese per crescita e cura dei figli, incentivi alle imprese per il welfare e contrattazione di secondo livello, riforma dei congedi parentali, incentivi significativi al lavoro femminile e politiche di sostegno per i giovani, casa, formazione e lavoro. Serve questo, non 10.000 euro di detrazione. Non c'è da inventare nulla. Sottosegretario, volete far crescere la produttività, obiettivo di questo DEF? Non c'è da inventare nulla. Prendete i soldi del PNRR, rimontate Industria 4.0. Ho avuto modo di dirlo brevi mano anche al Ministro Fitto. I fondi del PNRR vanno destinati alla transizione ecologica e digitale. Possiamo riconoscere le imprese che investono in quella direzione, perché non ci sono da nessuna parte che devono essere tutti investimenti pubblici, possiamo prevedere una premialità per l'occupazione femminile e giovanile, che io ricordo erano gli obiettivi del Next Generation EU. Sottosegretario, la sanità, se non intervenite con urgenza il sistema crolla, perché avete ridicolizzato il mess sanitario. Ora le regioni sono in uno stato finanziario disastroso. I giovani medici stanno scappando dalle strutture pubbliche, in particolare dai pronti soccorso. Guardate che questa non può essere una cosa che prendiamo sotto gamba come viene fatto all'interno del documento di economia e finanze. Bisogna cambiare profondamente registro. Lo lascio dire a quella parte di opposizione che fa sempre lo sforzo di stare al merito, di proporre cose concrete, di rispondere anche, se si trova in Toscana, risponde anche sui termovalorizzatori. Perché ora che, per scomodare un testo un pochino più significativo di questo DEF, il vostro parlare sia «sì, sì, no, no, tutto il resto appartiene al demonio». Si possono cominciare a introdurre nel dibattito pubblico e politico non solo la sostituzione etnica, il fatto che in via Rasella ci fosse la banda, le parole di Del Mastro. Possiamo cominciare a mettere questioni sulle quali avere posizioni puntuali? Sul MES state facendo un balletto di cui vergognarci come Paese agli occhi dell'Europa. Perché sul MES dovete prendere una posizione che sia definitiva. Io tra l'altro immagino quale possa essere, ma stiamo perdendo tempo e credibilità. E allora concludo, Presidente. Siccome ad ogni curva ci ricordate che finalmente c'è un governo politico in questo Paese, bene, per definizione fare politica è avere un disegno, avere un progetto e programmare tutto quello che manca in questo DEF. Ecco, se siete un governo politico iniziate a farla, la politica.